La bellissima Asia Argento avrebbe fatto, quindi compiuto, una performance durante il concerto a Roma del famoso rapper Salmo. Nel suo brano, infatti, PXM avrebbe cantato, se pensate ad Asia Argento sono ricco dentro perché manca se mi paga e io lo ficco dentro. Perciò Asia sarebbe intervenuta, proprio durante il brano incriminato, per andare a, tra virgolette, punire il famoso rapper. L'altrice, infatti, sarebbe salita sul palco con una paliggetta piena di soldi tra le mani e avrebbe detto Ho proposto a questo ragazzo 20k per ficarmelo dentro, voi accettereste? Un colpo di scena che avrebbe ovviamente stupito in non pochi fan di Salmo, ma niente di preoccupante. Infatti, queste non sono delle liti in piena regola, ma vengono chiamate dissing. E' solo una cosa del tutto normale, che fa parte della cultura hip-hop, ista hip-hop, ecco. Infatti, non è stato un caso che Asia e Salmo si sono scatenati poi sul palco insieme. La facciata di un lungo abito in latex argentato, davvero molto piacevole da osservare, in cui, che si vede in un post pubblicato su Instagram, così vede tutta quanta la sua bellezza e fascino. Ovviamente, e lo dico senza falsa retorica, i post in questione ha raccolto una quantità di like, quindi di mi piace, davvero incredibile. Un saluto caro, il video termina qua, questo video non vuole ledere la prevasi di Asia Argento e di Salmo, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto a Roma in concerto di questo straordinario cantante. Un cordialissimo salutone a voi tutti e al prossimo video da Narratori Italiani.